Ciao, sono Alen, faccio parte dell'associazione Pordenone Linux User Group. Siamo, come ogni anno, la sera del radiomatore, quindi oggi sabato vero 23, domani domenica 24, al padiglione 5, io lo vedo da qui, c'è un pinguinone grandissimo, e in ancora 20 secondi vi faccio vedere che cosa potrete provare. Potrete trovare un sacco di stand dove acquistare un computer usato a un quarto del prezzo nuovo, come questo, venire da noi, prendere una chiavetta con tanti sistemi operativi di base Linux, noi stiamo registrando con un sistema OpenJuice con OBS Studio, il software più amato dagli YouTuber, e in circa 10 minuti installare un sistema operativo nuovissimo, uscito ieri. Che ne dite, vale la pena? Troviamoci, ciao!